E allora, io Alessandro mi cimenterò nei baliaus palermitani, i più pesci che ci siano al mondo. E ora parleremo con Chris Love. Baleaus. E ancora un attimo, where you come? Sì! Ma va a schattamare perché vanno tutta l'epo, M. Cruega, 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 Cruega! Cruega, Cruega, Cruega! Grazie a tutti. Grazie a tutti.